Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Unisciti al canale Telegram, avrai le anteprime prima di tutti! Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti! Ciao! 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 ehi perché non provi la versione online basta cliccare sul pallino in alto a destra perché è gratuito e sempre lo sarà perché risparmi confrontando tutte le offerte perché aiutiamo l'ambiente piantando alberi in tutto il mondo perché abbiamo un sito web dove troverai tutti i volantini della tua città perché da noi le anteprime dei volantini arrivano prima di tutti e poi siamo stati primi ad avere la folla idea di mettere i volantini su youtube ed infine scusate se è poco perché ci sono io alice all me è ok i'm muovon each and every day the past is where it stays wait back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But I'll be ok Chi vuole risparmiare? Usa, trova volantini.it Like a year ago